Nuovi campioni in carica a reazione a catena, incoronati durante la puntata di mercoledì 3 luglio del game show preserale di Rai 1 guidato da Pino Insegno. Ma il finale di partita è davvero da dimenticare e i tre, maritozzi, si prendono una sonora stroncatura dal web. Scopriamo cosa è successo. La puntata di mercoledì 3 luglio del quiz che precede il TG1 inizia con le campionesse in carica, le calabresi Forza e Coraggio, ovvero le sorelle Rossella e Maria Laura insieme a mamma assunta che vengono sfidate dai nuovi arrivati. Loro sono i maritozzi, ovvero tre ragazzi Daniele, Francesco e Marco, come suggerisce il nome del team, sono romani e si sono sposati, uno appresso all'altro, nell'arco degli ultimi mesi. Come sempre, anche questa sera il gioco cruciale si è rivelato il penultimo, quello idè l'intesa vincente, dove gli sfidanti hanno infilato sette termini giusti e hanno mandato a casa le campionesse che si sono fermate a sei, una parola di meno. Pino Insegno celebra quindi un nuovo «cambio al vertice» del suo game show, con i maritozzi che finiscono all'ultima catena, pronti a giocare per un montepremi iniziale di 89.000 euro. Ma all'ultimo gioco, Daniele, Francesco e Marco non brillano particolarmente anzi, tutto il contrario. La catena questa sera appare veramente di facile soluzione e loro riescono a sprecare due jolly per una definizione piuttosto banale, Francesco è in difficoltà e non gli viene in mente la parola «cavaliere», tra i termini «crociato» e «galantuomo». Sbagliano il facilissimo «regalo» tra compleanno e pensiero e, alla fine di una catena facilissima ma che rendono disastrosa. Come sempre, mentre si gioca negli studi del Centro di Produzione TV di Napoli, si gioca anche sui social, su X in particolare, e i commenti, poco lusinghieri non mancano, davanti ad errori che, nella tranquillità di casa, appaiono veramente evitabili. Peccato! «Cosa sono andati a sbagliare», scrive un utente, «tutto sommato gentile, altri non sono altrettanto teneri, scadentucci su una catena abbastanza facile», scrive un altro giocatore online. «Questa catena era un 6 su 6 senza manco vedere le iniziali», sottolinea un altro, «mentre non mancano giudizi più duri sulla preparazione dei «maritozzi», anche questi sono abbastanza capre», e ancora, «catena facile ma un po' capre i nuovi campioni». Fatto sta che i concorrenti arrivano all'ultima parola con «suli» 11.125 euro. La prima parola che si trovano davanti è «pensiero», il termine da indovinare inizia con «co» e finisce con «e», comprano il terzo elemento che è «nuova», riducendo il monte premi a 5.562 euro. A questo punto danno la loro soluzione, costruzione, ma la parola è, invece, concezione. Niente di fatto, ma la soluzione fa, di nuovo, storcere il naso a chi, nel frattempo, gioca sui social. Allora ci stavano benissimo sia corrente che costruzione che concezione. Malissimo, dal punto di vista autoriale, e c'è chi scherza, concezione. E così il monte premi resta immacolato.